Benvenuti a questa lezione, oggi vedremo attraverso due casi clinici due situazioni differenti in cui recuperiamo due radici fortemente compromesse. In realtà potrebbero sembrare delle situazioni molto simili, ma ci troviamo di fronte a due casi diversi, perché in uno avremo la necessità, per finalizzare un trattamento estetico, di riposizionare i tessuti gengivali, quindi l'intero sistema di attacco sovracristale, in direzione più apicale. Sia di quella di andare a migliorare l'estetica, di consentirmi una modifica delle proporzioni dei due incisivi centrali, sia quella in questo caso di crearmi i presupposti per andare a espormi quei margini fratturati profondi sul 21, di ricostruire il moncone e di rifare la corona non solo sul 21, ma anche sull'11. Facendo questo, quindi passerei da una proporzione del 95% a una proporzione del 75%, che è più coerente, più armonica, più estetica nella paziente.